OPERAZIONE SPERANZA Con coloro che sono molto lontani da noi, ha dichiarato Freire Alois, a priori di Taizé, nell'annunciare la notizia al momento della chiusura dell'incontro europeo di fine anno, che ha riunito circa 40.000 giovani a Bruxelles. Non è la prima volta che, in circostanze di bisogno particolari, Taizé sostiene una diffusione della Bibbia. Durante il Concilio Vaticano II ha inviato in America Latina un milione di copie del Nuovo Testamento in spagnolo e 500.000 in portoghese. Nel 1989 Taizé ha invece fatto stampare un milione di nuovi testamenti in russo per la Chiesa Ortodossa di Russia.